Dopo mesi, anni, ere paleolitiche, geliologiche e suini, Goku, Super Saiyan Limit Breaker, è realtà. In realtà non so se effettivamente si debba chiamare Super Saiyan Limit Breaker perché se non erro è stato un nome affidatoli dai Dragon Ball fans... Comunque sia, lo chiameremo semplicemente Goku che ha un'aura attorno e la Toei non aveva voglia... Ragazzi, la Toei non aveva voglia di fare un cazzo, va bene, ok, va bene, andiamo avanti. Finalmente in Giappone sono andati in onda gli special, gli episodi 109 e 110 della fantomatica serie Dragon Ball Super. In essa vi possiamo trovare battaglie ardua, la stessa roba con animazioni ripetute fino alla merda, vero, Zeno, Sama, vero, vero, con C-18, C-17, Freezer che anche se sono lì in realtà non sono lì e vaffanculo... Ma comunque, siamo nel pieno della battaglia fra Jiren e Son Goku, il quale quest'ultimo si cimenta a scaramentare una sfera Genkidama, in cui ci metterà appresso il potere del Super Saiyan Blue assieme alla potenza del Kaio che è nella massima potenza. Wow! Ma Dominica Kira, e tutto questo non ti fa dire... No ragazzi, no. No! E sapete perché? Perché io mi chiedo come porca di una puttana si possa spoilerare così tanto una trasformazione che dovrebbe essere retoricamente una cosa importantissima per la serie. Non l'hanno fatto con Blue Veget, non l'hanno fatto con Black, l'hanno solamente annunciato appunto nella preview dell'episodio prossimo, se non con una pubblicità di merda. Il fatto sta che non ci hanno fatto i coglioni così, 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 madonna come questo. Ma andiamo avanti. Goku, finalmente trasformatosi, ruba di prepotenza mosse che sembrano uscite da Rock Lee quando era nella modalità ubriaco contro Kimimaru, ma va bene così, chi se ne frega. Ci si danno i pugni, ci si danno le robe, Beerus piange silenziosamente, Goku ce l'avrà fatta? No! Sta roba è malata! Avete presente quelle persone che paragonano Jiren a Saitama? Che non so neanche come cazzo può essere... Comunque, qui Jiren rompe tutto quello che abbiamo visto e con cui ci hanno fatti i coglioni pieni in tutto Dragon Ball Super. Distruggendo anche quelle poche convinzioni su chi avesse ancora voglia di vedere Hit contro Goku. Che vita di merda! Soka! 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 Soka!